Un tragico incidente che si è consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, alla frazione Pregiato di Cava dei Tirreni, è costato la vita al 37enne Alfredo Salsano. Mancavano pochi minuti alle 15, quando il ragazzo cavese avrebbe perso il controllo della sua moto mentre transitava a velocità sostenuta per via Luigi Ferrara, in località Palmenta, impattando violentemente una Fiat 500 in sosta. La situazione è apparsa subito disperata a quanti hanno assistito allo schianto. Prontamente allertati, i sanitari della Croce Bianca sono accorsi sul posto. Tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo del sinistro si sono precipitate anche gli agenti della polizia locale ed il magistrato di turno. Al termine dei rilievi del caso, indispensabili per chiarire le dinamiche dell'incidente, la salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Cava dei Tirreni. La notizia si è immediatamente diffusa in città, gettando nello sconforto i tanti che conoscevano Alfredo Salsano. Il giovane, carrozziere di professione, lascia una moglie e due figli, con cui viveva la frazione annunziata. Le sequie muoveranno questo pomeriggio alle 16.45 dal cimitero, dove è stata allestita la camera ardente, alla chiesa nuova di San Vito Martire, in cui sarà celebrato il rito funebre.